In diretta dagli autoscontri, incredibile ma vero, 3-5 minuti secondo me non esistimo più Se vedrete questo video, se vedrete questo video vuol dire che... Maurio, saluta! Il canello forte a Gianni, finirà, va? Mamà! Siamo vivi, siamo vivi, nooo! All'attacco! Sarica, sei morto! Mauro, scappoglio, move! Cacca macchia! Chi sei Davide, chi sei? Non, non cammino! Ci siamo, ci siamo!